Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, te la ricordi questa canzone? Sì, sì, credo di sì. Che bei tempi. Io te e tuo padre in macchina verso Loreto per andare a visitare il santuario. Sweet per Piolo Uncerno. Mi ricordo bene. Gli avevamo regalato la cassetta prima di partire e durante il viaggio non abbiamo mai smesso di ascoltarla. Che bei vecchi tempi quelli. Ti ricordi cosa diceva sempre? No, lo ricordo. E' che era solo per parlare un po'. A me ricordare i vecchi tempi e d'allegria. Ma se tu non vuoi, facciamo a meno. Mi chiedevo se Dio potesse davvero intervenire nelle vicende umane. Insomma, e se fosse solo un osservatore esterno? Ma che domanda mi fai? Lo sai benissimo che Dio è un impotente. Può fare quello che vuole. Nell'universo non si muove neppure un atomo che Dio non voglia. Lo diceva sempre papà? Sì. E ora aiutami a sparicchiare, dai. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Notte 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 Ciao papà. Non volevo disobbedirti oggi. Non volevo farti un torto. Volevo solo avere delle risposte che credo anche di aver avuto in parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao mamma. Grazie a tutti. 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 E... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.